salve ragazzi siamo tornati eh sì siamo a casa oggi perché nelle giornate più calde un po di relax fa bene e mi sono chiesto visto che il caldo magari in campo aperto non fa neanche tanto bene alle nostre piante facciamo vedere ai nostri amici come realizzare un orto sul balcone un piccolo angolo dove poter mettere magari delle erbe aromatiche e qualche ortaggio andiamo subito a vedere bene abbiamo spostato la nostra area relax che sicuramente rimetterò dopo per portarvi a vedere i contenitori che ci serviranno per il nostro orto sul balcone di varie dimensioni ovviamente in relazione alla pianta che noi andremo a mettere ad esempio in un vaso così di profondità di 15 centimetri noi andremo a mettere delle piante piccole ad esempio come cipolle come insalate come ravanelli anche in un vasettino così di sempre di 15 centimetri magari potremmo mettere delle piante piccole come delle piante di peperoncino per poi andare a una misura un po' più grande magari di 25 30 centimetri di diametro e di profondità dove noi possiamo coltivare dei pomodori delle melanzane dei peperoni dei cetrioli e poi passare anche alla misura più grande 35 40 sia di diametro che di profondità dove noi possiamo coltivare anche le patate o i meloni possiamo dire che la coltivazione in vaso è una buona pratica per tutti anche per chi ha poco spazio in vaso possiamo coltivare tutti i nostri ortaggi a patto che gli si dia il giusto nutrimento la giusta esposizione al sole e la giusta irrigazione oltre ai vari contenitori ci servirà del terriccio dello stallatico dei guanti se vogliamo proteggerci un rastrellino e una paletta come prima cosa andremo a comporre dei contenitori con delle erbe aromatiche come ad esempio prezzemolo basilico anche delle cipolle e delle insalate visto che queste piante hanno un apparato radicale piccolo e possono stare in dei vasi poco profondi a questo punto possiamo decidere di andare a trapiantare delle piantine che sono rimaste dalle semine che abbiamo fatto a primavera come potete vedere in uno dei miei video precedenti oppure acquistare le piantine in uvivaio per quanto riguarda i contenitori volevo dire che potremmo anche realizzare dei nuovi se abbiamo un po' di manualità ad esempio come questo realizzato con i pancali vecchi oppure potremmo pensare di riciclare delle bottiglie in plastica o dei secchi in plastica prima di mettere le nostre piantine andremo a vedere come preparare i vasi che andranno sistemati a strati ad esempio il primo strato andrà sistemato con della ghiaia grossa o dei sciottoli oppure dell'argilla espansa che possiamo trovare in commercio come prima cosa come abbiamo detto andremo a formare il primo strato posizionando della ghiaia grossa dei sciottoli o dell'argilla espansa per poi andare a coprire il tutto con un sottile secondo strato di terriccio andremo poi a formare un terzo strato di un centimetro di stallatico per poi continuare con un quarto di terriccio che andrà a riempire tutto il vaso e infine ricordiamoci di pressare bene tutto il terriccio iniziamo con il basilico dove prima sistemeremo le piantine più grandi nelle parti laterali per poi continuare con le piantine più piccole nella parte centrale sistemandole riempendo tutto il vaso continuiamo con il prezzemolo sistemandolo magari questa volta in modo alternato visto che abbiamo meno piantine adesso andiamo a vedere la cipolla che possiamo sistemare nel vaso mettendola anche in due file possiamo anche decidere di tagliare un po' la parte alta per stimolare la crescita adesso nel contenitore faedette metteremo le insalate aggiungendo anche qualche cipolla prepareremo poi anche i vasi più grandi che abbiamo preparato come i vasi più piccoli quindi astrati dove noi andremo a mettere le piante di ortaggi tipo pomodori peperoni melanzane e useremo anche il vaso più grande dove noi andremo a mettere una pianta di zucchine iniziamo con un vaso all'incirca di 25-30 cm di diametro e di profondità dove noi metteremo un peperone ma per esempio possiamo anche mettere melanzane e cetrioli in un vaso un po' più grande di circa 30-35 cm di diametro e profondità andremo a mettere una piantina di pomodoro aiutando anche le radici come vedete muovendole un po' quando viene elevata la piantina dal vaso piccolo per poi finire con un vaso ancora più grande di 40-45 cm di diametro e profondità dove noi metteremo una zucchina ma anche altri tipi di piante che hanno bisogno di uno spazio più ampio potete mettere diversi ortaggi in base al posto che avete noi adesso andremo a vedere qualche consiglio per come sistemare i vasi sul balcone e anche qualcosa sull'impollinazione come potete vedere abbiamo usato delle panchine in legno fada a te o dei tronchi di albero per tenere i vasi sollevati in modo che mettendo diverse piante vicino non si diano noia l'una con l'altra essendo a livelli diversi così agevolando il lavoro quindi abbiamo sistemato due cetrioli laterali con gli appositi supporti delle melanzane dietro sopra i tronchi di legno un peperone a terra e uno sul tronco di legno due piante di zucchine a terra pomodori a terra, basilico rialzato, prezzemolo rialzato, insalate a terra e cipolle a terra adesso arriviamo all'impollinazione che bene o male conoscete tutti ad esempio i cetrioli hanno dei fiori maschi e dei fiori femmina sulla stessa pianta che si devono impollinare a vicenda invece una pianta ad esempio la melanzana ha dei fiori ermafroditi queste due tipologie che abbiamo visto fanno comunque parte della stessa categoria delle piante monoiche che hanno fiori maschili, femminili o ermafroditi sulla stessa pianta altrimenti esiste anche la categoria delle piante di oiche che hanno fiori femminili e maschili su piante diverse volevo spiegare velocemente a grandi linee anche come funziona l'impollinazione artificiale quella manuale praticamente quando quella naturale non è sufficiente noi adesso useremo le mani ma viene anche usato del cotone o dei pennelli avviene semplicemente dal trasferimento manuale del polline dal fiore maschio al fiore femmina nel caso appunto la pianta abbia i due sessi diversi di fiori oppure ad esempio possiamo usare un fazzoletto di carta o un cotone fioc per trasferire il polline da un fiore a un altro in questa pianta ad esempio di melanzane che ha i fiori ermafroditi questa pratica viene usata in mancanza di impollinatori come le nostre amiche api e altri insetti quindi in posti chiusi o in grandi serre oppure vicino ai centri urbani dove appunto può scarseggiare l'attività dei nostri amici insetti come ultima cosa dobbiamo dire che se vogliamo un buon orto sul balcone dobbiamo curarlo prima cosa il nutrimento che daremo una seconda volta allo sviluppo dei primi frutti l'irrigazione che nei periodi più caldi dovrà essere effettuata tutti i giorni nelle ore più fresche e una buona esposizione al sole giornaliera in base al tipo di ortaggio bene il video è finito se vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi e commentate io torno all'area relax se vi è piaciuto mettete un'altra volta allo sviluppo dei primi frutti Grazie a tutti.